Rosolini, 26 anni libico con l'indole violenta, è stato arrestato dai carabinieri. Un giovane libico, ribelle con reati a un pubblico ufficiale, decisione personale e ricettazione, è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Rosolini, che in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania. Si tratta di un giovane libico di 26 anni, già noto dalla Forza dell'Ordine per i suoi precedenti di polizia. Questi deve scontare la pena detentiva di due anni e sette mesi di reclusione per avere commesso da minorenni diversi reati, tra cui resistenza a un pubblico ufficiale, lesione personale, ricettazione, condotto in caserma. L'uomo è stato tratto in arresto e poi associato presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa.